Sono ricominciati stamattina gli interventi per la sostituzione e ripiantumazione di alberature sul territorio del comune di Napoli, grazie a un finanziamento della città metropolitana pari a oltre 5 milioni e mezzo di euro. La messa a dimora ha avuto inizio al Bomero, in via Luca Giordano, via Scarlatti e via Tino da Camaino. La stessa zona era stata oggetto nella scorsa settimana delle attività di estirpazione delle vecchie ceppaie e di colmatura delle fossette con nuovo terreno vegetale. La sostituzione avverrà con il criterio specie su specie, quindi platani su via Luca Giordano e via Scarlatti e ligustri su via Tino da Camaino. Sì, ma non solo sulla zona del Bomero, la città è stata suddivisa in 5 lotti, nell'otto 4 che è ripreso stamattina rientra la zona del Bomero, siamo a via Luca Giordano, saranno piantumati stamattina 18 nuovi platani, poi si continuerà su via Scarlatti e via Tino di Camaino, ma parallelamente dalla prossima settimana cominceranno le attività di sostituzione specie su specie e risistemazione delle fossette previ a rimozione della ceppaie in tutti gli altri lotti. È un progetto che andrà completato entro il 2023 e chiaramente la ripiantumazione deve rispettare anche dei vincoli di stagionalità e questa è quella giusta. Grazie. Grazie. Grazie.